Tanti ospiti sono previsti quest'oggi per l'evento di presentazione Pizza & Wine 2023. Ecco, di cosa si tratta nello specifico? Allora, Pizza & Wine è una iniziativa organizzata dalla COGEA, che sarebbe Comitato Gastronomico per l'Educazione Alimentare. Noi ci prefigiamo di promuovere il territorio con una serie di iniziative, con studi di settore, organizzando sagre e manifestazioni simili. Pizza & Wine perché? Perché l'intento di questo evento è quello di portare in tour l'esperienza di bere vino con le pizze gourmet. Ebbene, è un po' particolare questa manifestazione, non peraltro perché riscopriamo un elemento importante come il vino che, dobbiamo dircelo tutto, rispetto alle birre, alle Coca-Cola, è un qualcosa che nasce dal nostro territorio. E quindi, inizialmente, queste bevande, gasate o meno, non avevano circuito perché non venivano prese da tutta la gente che usufruiva di queste pizze. Se noi abbiamo voluto rilanciare questa, come possiamo definirla, questa novità gastronomica, perché? Perché inizialmente la pizza veniva accompagnata dal vino. Poi, tra virgolette, se i vini sono della nostra terra, molto meglio. Tant'è vero che noi avremo come ospiti, tra l'altro, anche delle cantine. Quindi è un discorso a 360 gradi.